Olimpia Splendid presenta Il raffrescatore a torre, sottile e potente, adatto a qualsiasi ambiente. È in grado di raffrescare silenziosamente ambi ambienti. Un eccezionale rapporto dimensioni-potenza. Peler 5 È il raffrescatore più silenzioso della gamma. Il sistema di ionizzazione garantisce un'aria più pulita e rivitalizzata nell'ambiente. Il display digitale ottimizza e semplifica l'utilizzo. Peler 7 Garantisce livelli di portata d'aria eccezionali, assicurando un piacevole fresco più a lungo, anche grazie alla tannica d'acqua di ampie dimensioni. È dotato di ionizzatore, in grado di abbassare la carica batterica dell'aria nell'ambiente. Raffrescatori Olimpia Splendid Non i soliti ventilatori. Tecnologia super fresco, con funzionamento ad acqua. Olimpia Splendid Azienda italiana dal 1956 Ho scompla il coffra circa мал'outra. La voce Spezza Pro A